Mister, ultimo appuntamento con i nostri tifosi di quest'anno, partiamo con Sami. Qual è stata la sconfitta più dolorosa e la vittoria più meritata in questo inizio di stagione? Ma, allora, penso quella con l'Inter, qui in casa, la più dolorosa per come è arrivata, per come avevamo affrontato la gara, per il fatto che avevamo ribaltato un risultato negativo, per il fatto che il punto era meritatissimo e penso che quella abbia fatto molto male, soprattutto perché è l'unica di un periodo dove abbia fatto grandi risultati e quindi penso la più dolorosa. La più bella, le vittorie sono tutte belle, ecco, faccio fatica adesso a ricordarne una, perché per me vincere è difficile, vincere soprattutto in Serie A è sempre qualcosa di faticoso, quindi tutte sono belle e tutte do un grande valore. Antonio, quanto è contento dei progressi della squadra? Sono contento perché è stato un periodo non bello, molto difficile, un periodo complicato e i ragazzi hanno reagito, hanno reagito bene, prima in conference, dopo in campionato ed è venuto fuori il carattere dei ragazzi, quello che mi è piaciuto è questo orgoglio, questo spirito che hanno messo in campo nelle ultime partite, che si dovrà rimettere in campo domani contro il Milan, partita da affrontare con lo spirito giusto, è l'ultima quindi cercheremo di fare bene. Andiamo avanti con Enzo, previsioni su Castrovilli? Stai iniziando a lavorare anche con i compagni, non a pieno regime, però lo stiamo buttando dentro in qualche situazione, non affrettiamo i tempi, arriva da un infortunio grave, le tempistiche sono giuste, ha rispettato tutto quello che era il lavoro per quanto riguarda la condizione, per quanto riguarda il recupero muscolare, per quanto riguarda anche il ginocchio che adesso risponde bene, quindi pian pianino lo ributteremo dentro. Rimedia, cosa farete durante i mondiali? Prevedete qualche amichevole o qualche tournée? Faremo due settimane di stop, poi riprenderemo con gli allenamenti, con gli amichevoli, in maniera graduale aumenteremo anche le difficoltà, ma ne faremo tante, ne faremo tante perché alla fine giocare, affrontare avversari, è un ottimo allenamento, quindi cercheremo di farne un bel po'. Andiamo avanti con il prossimo impegno, Mick le chiede la Fiorentina, domani affronterà il Milan, campione in carica, che partita si aspetta e cosa teme dei rossoneri? Tutto, temo tutto, temo quello che è un gruppo, una formazione, una squadra che ha fatto grandissime cose, sono campioni d'Italia, è una squadra che in casa si esprime in maniera spettacolare, quindi si teme tutto, l'abbiamo preparata penso con la giusta attenzione, domani è un bel esame per noi, soprattutto per il fatto che poi ci sarà il rompete le righe, quindi però dobbiamo cercare di concludere bene, andare lì, fare prestazione, avere la coscienza a posto, cercare di uscire a testa alta e cercare di far punti, che questo è il nostro obiettivo. Tra l'altro lo scorso campionato la Fiorentina ha vinto in casa e ha perso poi per un episodio la partita di ritorno, cosa vorrebbe rivedere nella sua squadra di quelle sfide? In entrambe le sfide avevamo giocato con grande personalità, affrontando il Milan con coraggio, soprattutto nella gara di ritorno, dove è stata una delle ultime sfide, dove loro si giocavano lo scudetto, noi avevamo da giocarci un posto in Europa, l'avevamo affrontata con una grandissima personalità, poi un episodio ci ha condannati, però quella personalità domani dobbiamo cercare di riproporla. Andiamo avanti con Loli, il presidente commisso è tornato in America, prima di andare via le ha detto qualcosa? Ha salutato il gruppo, ha salutato tutti, sono stati tre mesi intensi con il presidente, siamo contenti di avergli regalato questa ripresa in termini di punti, di queste cinque vittorie, penso che sia tornato negli Stati Uniti contento e di questo ne siamo felici. Mister, chiudiamo con il mondiale, immagino lei seguirà il torneo, i nostri calciatori convolti, chi vede favorite e quale squadra seguirà con più curiosità? Ma seguirò chiaramente questi mondiali, seguirò soprattutto i nostri calciatori con molta attenzione, e dispiace non vedere l'Italia all'opera, però mi concentrerò, ripeto, su quello che può essere la crescita dei nostri ragazzi. Poi è sempre un campionato mondiale, è uno spettacolo, quindi ce lo godremo.